Aggiornata la roadmap vaccinale, sperando questa volta di rispettare i tempi. Già, perché nei piani della Regione Marche la vaccinazione agli over 80 doveva finire a metà marzo e invece i ritardi nelle forniture dei sieri l'hanno procrastinata almeno ad inizio aprile. Ma si cominciano a programmare concretamente le fasi successive. L'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha aggiornato nel Consiglio regionale di martedì che le prossime due categorie a cui spetterà il vaccino saranno i disabili gravi assieme ai loro familiari e, dopo tanti rinvii, entreranno in gioco anche i cittadini marchigiani compresi fra i 70 e 79 anni. Nei primi giorni di aprile sarà infatti aperto il canale di prenotazione anche ai settantenni sul sito di Poste Italiane con la prospettiva di somministrare le prime vaccinazioni dopo Pasqua. Programmi che nascono sulla base di rassicurazioni governative che dovrebbero consegnare alle Marche 210.000 vaccini per un milione complessivo nel trimestre aprile-giugno. Secondo la Regione non sono attese aggiunte ai 25 punti vaccinali in Regione al di là del programmato cambiamento a Pesaro dal Monaldi all'ex Ristò che entrerà in funzione lunedì 29 marzo. Intanto resta in alto mare l'ipotesi ventilata a livello nazionale del coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale. È una cosa che noi, come Assofarm, che è l'associazione che rappresenta tutte le farmacie comunali d'Italia, di cui io sono vicepresidente, abbiamo più volte auspicato. Già nella legge di bilancio per il 2021 c'è un richiamo al fatto che il sistema capillare delle farmacie possa essere investito nell'insieme all'interno della campagna vaccinale. Considerate che noi ancora siamo a un piccolo passo proprio di questa campagna e che presto partirà così alla grande per poter arrivare a raggiungere il numero massimo delle popolazioni. e la capillarità delle farmacie sul territorio, siamo circa a 19.500 a livello nazionale, permetterà di poter dare un aiuto grande.